E ora Donà al servizio 24-18 Riceve male Micheletto, poi l'attacco affidato comunque a Chiosi, Murata Palla a terra e quindi 25-18, si chiude qui il match soverato Chiude 3-1, conquista tre punti importantissimi In ottica lotta per il sesto posto perché si avvicina sensibilmente al Trentino Che tra l'altro ha una partita in più e quindi c'è la concreta possibilità Nelle ultime tre partite di raggiungere la sesta posizione Con il capitano Melissa Donà commentiamo questa bella vittoria Ed importante per la classifica del Valle Soverato in questo turno infrasettimanale Contro Delta Informatica Trentino, una bella reazione della squadra Alla primo set perso e direi anche una bella prestazione di squadra Sì, sono molto contenta, abbiamo fatto le cose che avevamo preparato Ma più che dal punto di vista tecnico, che è comunque importante Sono contenta della grinta che ha messo la squadra per portare a casa il risultato Anche avendo perso il primo set, comunque ho visto negli occhi di tutte quante Tranquillità, nel senso la consapevolezza che si poteva fare E siamo state brave a rimanere in partita Una vittoria importante anche in chiave classifica, dicevamo Perché adesso mancano tre giornate solamente al termine della regular season Quindi ci si avvicina a questo sesto posto per migliorare la posizione in ottica playoff E anche lo stato psicofisico della squadra Sembra essere buono, visto che ci avviciniamo proprio alla post-season Quello è importante, è importante arrivare cariche mentalmente e bene fisicamente Nel momento più importante della stagione Poi sì, la posizione può essere favorevole per un discorso di partite in casa, partite non in casa Queste cose qui Però l'importante è arrivare bene Ho visto in tanti anni in cui gioco squadre arrivare per il rotto della cuffia ai playoff E poi fare il salto di qualità, la promozione insomma A discapito di altre squadre che magari hanno fatto molto bene tutto l'anno Sono stati costanti, però magari arrivano un po' scariche alla fine È un altro campionato i playoff È importante arrivarci mentalmente e fisicamente appunto bene Però si riparte 0-0 Coach Barbieri si può ritenere molto soddisfatto quest'oggi della prestazione della sua squadra Una vittoria importante 3-1 contro Delta Informatica Trentino in casa Una vittoria importante per la classifica Ma anche una bella risposta da parte della sua squadra Sì sì, abbiamo giocato penso un buon match Temevamo la loro battuta perché è una battuta molto molto aggressiva E devo dire che invece abbiamo ricevuto molto molto bene Questo per noi vuol dire tanto, vuol dire questo processo di crescita su cui stiamo lavorando Sulla ricezione oggi è andata bene e devo dire poi anche tutto il resto ha funzionato nel modo migliore Ecco, ci avviciniamo al momento clou della stagione di playoff Il Soverato ci arriverà sicuramente con questa buona scia di risultati Anche se mancano logicamente ancora tre giornate al termine di questa regular season Tre giornate in cui ci saranno tre sfide importanti per il Soverato Per tastare ulteriormente la condizione psicofisica della squadra Sì, ecco, adesso non so gli altri risultati Però è importante arrivare, l'ho già detto, il prima possibile nei playoff Poi un posto avanti, un posto indietro non è il problema Per poter poi prepararli, per prepararli mentalmente, fisicamente Questo può essere un aspetto importante e questi tre punti servono a quello Elisa Moncada, ex di turno, torna a Soverato con il suo Delta Informatica Trentino Oggi sconfitta 3-1 qui alla Palascoppo Una partita che era iniziata bene per voi sino al 16-20 del secondo set Poi cosa è successo? Ecco, penso che analizzeremo la partita comunque con calma Credo che sì, il primo set è andato bene come avevamo studiato A parte il piccolo cambio di bande, però insomma, tutto sommato siamo riusciti a tenerle E dal secondo set in poi forse è mancato un po' di ordine in campo È mancata un po' di difesa in più Forse siamo andati anche in difficoltà un po' in ricezione Quindi insomma, noi abbiamo cominciato a battere un po' meno bene rispetto al primo set E così loro insomma sono andate avanti Ci sono ancora tre partite al termine della regular season Voi dovete ancora osservare il proprio turno di riposo Quindi due partite per difendere questo sesto posto in ottica playoff Che sarà sicuramente un posto importante Quindi ci sarà ancora da lavorare molto Sì sì, fino alla fine saremo tutte insomma lì Quindi è giusto che non perdiamo la concentrazione E che non pensiamo insomma che ormai i giochi siano fatti Per cui sì, queste due partite che ci rimangono sono indubbiamente importanti Forse le più importanti del campionato a questo punto Con il tecnico negro del Trentino commentiamo questa sconfitta Qui a Soverato 3 a 1 Era una partita importante in ottica playoff Un Trentino che era partito bene Poi dal 16-20 del secondo set la partita è cambiata Probabilmente lì quel set perso al photo finish vi ha un po' abbattuto Sì, fino a quel momento lì noi abbiamo fatto la partita che avevamo preparato e pensato E abbiamo messo molto qualità nelle cose che abbiamo fatto Da quel punto poi in avanti abbiamo fatto molta più fatica E siamo stati poco incisivi con la battuta Soverato ha potuto sviluppare il suo gioco sempre con facilità E siamo mancati nella fase break Il muro di difesa completamente L'attacco alla fine si è equivalso Perché abbiamo finito tutte le due squadre con la stessa percentuale Abbiamo commesso qualche errore di troppo Soprattutto nei momenti in cui Soverato ha compiuto i break decisivi Almeno dalla tribuna qui mentre commentavamo il match C'è parso che forse c'è stato anche qualche errore di troppo In alcuni fondamentali come le battute e la ricezione Complice probabilmente anche i buoni turni di battuta della Soverato Questo ha complicato ulteriormente i piani Sicuramente, ma questa è la pallavolo Noi siamo partiti con l'idea di essere aggressivi con la battuta Purtroppo non c'è entrata, abbiamo commesso molti errori E poi la conseguenza è che poi finisce a battere piano E a rendere la vita facile a Soverato Mentre Soverato è stato molto incisivo a quel servizio E ha messo in difficoltà la nostra ricezione Più di quello che soffriamo di solito Questa è stata la chiave sicuramente Il nostro servizio non ha funzionato E loro invece che hanno funzionato molto bene